Il recupero dei farmaci non scaduti, iniziato in forma sperimentale nel 2014, dalla città e dalla provincia di Torino con il Banco Farmaceutico e con il supporto di Federpharma, dell'Ordine dei Farmacisti, delle aziende sanitarie e dell'AMPAS, è oggi una realtà che si è estesa anche da altre province italiane e che nel torinese è stata riconfermata con la firma del rinnovo del protocollo d'intesa, che ha coinvolto Banco Farmaceutico, città di Torino e città metropolitana, Federpharma, Ordine dei Farmacisti, Farmacie Comunali, Farma Uniti, ASL e TO, Centro Servizi per il Volontariato e AMIAT. Il recupero di farmaci non scaduti rappresenta una forma di sostegno a tutte quelle persone che non possono accedere ai medicinali mutuabili e tantomeno possono acquistare quelli non mutuabili, ma è anche un contributo alla Green Economy, evitando lo spreco e favorendo il riuso e contemporaneamente evitando la dispersione nell'ambiente di prodotti che possono essere inquinanti. L'accordo consente ai cittadini di consegnare negli esercizi aderenti medicinali che non si usano più, purché abbiano almeno otto mesi di validità e siano nella propria confezione originale e integra. Dal 2014 il progetto ha permesso di raccogliere oltre 131.000 confezioni di medicinali per un valore di circa 1.800.000 euro, mentre nel primo semestre 2018 sono già stati raggiunti i 430.000 euro. Siamo molto contenti di firmare questo protocollo oggi per tre motivi principalmente. Il primo è la nostra attenzione ai temi del sociale, quindi alle persone in difficoltà e questo protocollo va proprio in quella direzione. Il secondo è la creazione di una rete tra le parti istituzionali, le ASL di raccolta appunto di medicinali non scaduti per la redistribuzione alle famiglie indigenti o comunque alle persone che purtroppo oggi troppo spesso non riescono più a curarsi. Il terzo motivo è proprio questa rete. Noi lavoriamo assiduamente per tentare di creare reti sempre più grandi proprio nell'ottica della collaborazione tra enti e associazioni. Abbiamo raccolto nel 2017 per un valore complessivo di 1.300.000 euro di farmaci che sarebbero andati a finire ovviamente nel cassonetto dei farmaci scaduti e questo è un traguardo importante perché ha la doppia funzione quello di aiutare le persone indigenti che non hanno accesso al farmaco e che sono in povertà sanitaria ma soprattutto anche di educare i cittadini che il farmaco bene e prezioso non va sprecato.